Siamo in compagnia di Samuel, che nel film fa il protagonista Nicolò, questo bambino, si va a disculpare questa coppia. E tu credo, sì, Samuel, ti sei divertito a girarlo. Ma andavi a scuola mentre registravi il film e non so prenderti un periodo di tempo. C'era lì, 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 c'era lì. C'era lì, c'era lì, c'era lì, c'era lì, c'era lì, c'era lì, c'era lì. E tuoi compagni di scuola come hanno reagito a questo film? Cosa ti hanno detto? In verità adesso vado solo in Francia. Ah, fin in Francia. Però non ho detto che ando, bravo, perché l'ho fatto la quinta in Francia, adesso sono in Francia, ho fatto il film fino alla quattro. E tuoi compagni francesi lo stanno ammettere il film? Non tutti, ma c'è il film. Allora in Baccalupo per il futuro, mi raccomando, il nostro futuro, non so, Red Pete o George Clooney? Sì, sì, sì. Grazie al nostro gioco.